La Maina Bandiera è un segno eloquente. Via il vessillo curdo dal palazzo del governatorato di Kirkuk, l'esercito iracheno riprende possesso della principale città della regione. E poi tocca i due più grandi campi petroliferi, quello di Baia San e Havana, a nord della città. Le truppe kurde, prima di ritirarsi, avevano chiuso i pozzi, capaci di riempire 350.000 barili al giorno di greggio, ma la riapertura dovrebbe essere a fare da poco. Il conflitto per il controllo del Kurdistan finora si segnala a bassa intensità, anche se i testimoni riferiscono all'agenzia Reuters di scontri con diversi morti tra entrambe le parti a sud di Kirkuk. Una situazione precipitata dopo il referendum per l'indipendenza del Kurdistan dello scorso 25 settembre, iniziativa deplorata non solo da Baghdad, ma anche da Washington. Il presidente Trump ha dichiarato che non intende prendere posizione a favore di nessuno dei due contendenti, invita piuttosto all'unità per continuare la lotta contro il califato. Una lotta che per gli USA si è spostata in Yemen, con il primo attacco aereo americano contro due campi di addestramento dell'ISIS. Secondo il comando delle forze statunitensi nella regione, i droni armati avrebbero colpito terroristi nell'atto di preparare attentati armati di fucili mitragliatori e lanciagranate. Si parla di decine di morti.